vado al patibolo se vado in ufficio vado al patibolo il mio capo mi tratta male come più gli aggrada è un vilissimo capo masnada quando giungo sulla mia scrivania la noia parte per tutto il giorno instancabile viaggiatrice della mia vita come risolvermi dove scappare che cosa mi salva commento ti può salvare l'accontentarti della tua noia che non è dolore il quale è il pavimento della bassa condizione umana